It Show 2018 siamo al TAV Nuovo Borgo con il gruppo di Beretta che si occupa del tiro dinamico e della presentazione del nuovo fucile 1301 Comp e la gente è a corsa numerosa per provarlo e abbiamo con noi Pierluigi Andreato tiratore Beretta che ci presenta brevemente il nuovo fucile. Questo è il nuovo 1301 fucile nato appositamente per il tiro dinamico con alcune caratteristiche che servono per questo tipo di sport e per questo tipo di discipline soprattutto per la disciplina per la divisione standard e modified nato da specifiche dei vari tiratori di Beretta. Beretta ha seguito tutta una serie di quali, un progetto che dura ormai da 6-7 anni e quest'anno hanno fatto una nuova versione, un restyling della vecchia versione modificando alcuni piccoli particolari, tutta la bindella, prese di gas, la cucchiaia ha cambiata, hanno cambiato i numeri di matricola che hanno spostato in maniera a poter lavorare a nostro piacimento i vari fucili, hanno cambiato la cucchiaia rispetto al vecchio modello. Ieri un sacco di persone sono venute qui a sparare, ieri sabato. Sì, molte persone sono venute qui che soprattutto per la maggior parte per la prima volta hanno visto cos'è il tiro dinamico e nel nostro piccolo facciamo una dimostrazione di come si svolge il nostro sport. Ho visto la gente molto appassionata a questo gioco. Bene, grazie a tutti.